Ti posso presentare Alberto Balletti, un noto artista Guardatemi Un saluto per la storia Un secondo saluto Porta su porta E come facciamo? Non deve essere inoltre Infilare due pezzi Guardate questo Non è stato essiccato Il filo spinato è troppo Però sul piano simbolico Mi sembra che potrebbe essere il massimo Croce con... Mi manca solo l'etichetta Enri E la moglie... E io dicevo mi spiace la moglie Questo ti porta a... Dover ampliare la titolazione E trovare le regole Due figure femminili Un campo aggresto Una sintesi... Ragazze sotto Grande Pino Figiale con Neon Questa apre una sezione di macerie Nel concorso estivo Doppio comignolo Doppio comignolo Iramianto Brada Buona questa A fine Un 800 Tranquilla Tranquilla Forni ancora molto artigianali Smalto buono Allora mio fratello dice che il video è veramente straordinario e molto divertente Ti ringraziano moltissimo i ragazzi Ciao ciao Mentre Diego ringrazia di Caterino Questo è il titolo della foto Chiaramente